Il concetto della giustizia riparativa è certamente questione che ora è sul tappeto, ma che già vent'anni fa il Cardinale Martini intuì ancora prima, pensiamo agli anni terribili del terrorismo e poi al cammino che fece anche con alcuni dei terroristi. Ecco, come leggere questo sguardo anche profetico del Cardinale? Il Cardinale ha avuto delle idee fortemente innovative sulla giustizia, sul significato della giustizia punitiva, della giustizia penale, che pescano sia dalla sua conoscenza diretta del carcere. Lui ha visitato il carcere più volte, sin dalla sua prima uscita come arcivescovo di Milano, sia dalla riflessione che ha fatto sui testi biblici. E lì potremmo utilizzare un'espressione di Papa Francesco, che non a caso è gesuita come lui, in cui si è colto, si coglie nella sua riflessione, che il problema non è tanto quello di punire, rendere giustizia non è tanto quello di una punizione fine a se stessa, ma di rendere giustizia alle vittime. Ecco, questo duplice sguardo sulla persona, chi ha commesso il delitto e chi ne ha subito le conseguenze, con lo sguardo rivolto al futuro per ricreare un legame che è stato rotto, è il contenuto essenziale del suo messaggio e quello portato ad approdare alle espressioni della giustizia riparativa, che hanno tracce nella Bibbia e anche tante esperienze nella storia. Grazie. Grazie.